Noi diciamo che Optipo va, è venuto qua, che prima mangiava le banane e adesso magari gioca a titolare nella lastia, che tra l'altro con tutti quegli Optipo va, c'è quel coso fuori, che sono svantaggiati nella corsa, un po' come i nani, che sono come le donne un po' handicapate rispetto all'uomo, che poi non è vero perché poi in FGC abbiamo verificato, abbiamo dato delle integrature, noi abbiamo dato un incarico importante in FGC a una donna, una grande lavoratrice, lavora come una filippina, però non ruba. Torna Crozza nel Paese delle Meraviglie, da venerdì 3 ottobre, sulla 7. Sugli ebrei non diciamo niente.